ben trovati e ben trovate per una nuova puntata del cartotto educational da ferrara città inserita tra quelle patrimonio dell'umanità unesco e ci troviamo in un luogo importante per la storia della letteratura italiana perché quello che stiamo osservando è in realtà l'edificio in cui è vissuto il grande letterato autore dell'Orlando Furioso Ludovico Ariosto siamo nel 1500 per dare così una idea storica del periodo in cui ci troviamo Ludovico Ariosto nasce all'interno di una famiglia molto numerosa nove fratelli rimane orfano di padre quindi interrompe gli studi per occuparsi così ci raccontano le cronache della famiglia e dei fratelli questo suo però fervore letterario lo porta in età già adulta a concepire quella che sarà la versione definitiva dell'opera più famosa l'Orlando Furioso tant'è che il buon Ludovico Ariosto e Ferrara è piena di testimonianze a Ariostè a una stesura definitiva che in realtà avviene quando l'Ariosto ha già 57 anni ironia della sorte scompare accudito così racconta la cronaca dalla moglie e dal figlio a 58 anni e quindi ecco lo ricordiamo all'interno di questo edificio che si struttura su questo piano terra e su un ulteriore livello in cui si trovano anche delle testimonianze letterarie di questa sua opera famosa l'Orlando Furioso una addirittura riporta tra le altre la prefazione di Josue Carducci e allora con questa pillola cultural letteraria il vostro Andrea Cartotto vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata del nostro Cartotto Educational ciao